Carlo Manno. Un monaco repunto Carlo Manno 716 circa 754 fu un nobile franco, figlio primogenito di Carlo Martello, maggiordomo di Palazzo di Austrasia, e Plechtrude. Era il fratello minore di Pipino il Breve e il fratello maggiore di Gisela. Carlo Manno giocò un ruolo cruciale nella conquista carolingia di Austria e Borgogna nel 743, e fu associato al padre nel governo del Regno Franco dal 741 fino al 747. In quell'anno, si ritirò dalla vita pubblica, rinunciando alle sue pretese al trono ed entrando in monasteri in Baviera e Vienne. La decisione di Carlo Manno di ritirarsi dalla politica fu motivata dal suo desiderio di dedicarsi a scopi religiosi. Era un cristiano devoto ed era profondamente preoccupato per lo stato morale del Regno Franco. Credeva che il modo migliore per migliorare il Regno fosse promuovere i valori e le pratiche cristiane. Dopo il suo ritiro, Carlo Manno trascorse il resto della sua vita vivendo in monasteri e lavorando per riformare la Chiesa Franca. Fu un mecenate delle arti e delle scienze e incoraggiò lo sviluppo dell'istruzione. Giocò anche un ruolo nella diffusione del cristianesimo alle tribù pagane dell'Europa orientale. Carlo Manno morì nel 754 nel monastero di Saint-Denis. Fu sepolto nella chiesa abbaziale, che in seguito fu ribattezzata in suo onore. L'eredità di Carlo Manno è una combinazione di pietà, erudizione e devozione alla fede cristiana. È ricordato come una delle figure più importanti dell'era carolingia. La vita di Carlo Manno Carlo Manno nacque intorno al 716 in Austrasia, una delle tre divisioni del Regno Franco. Suo padre, Carlo Martello, era un leader militare e politico di grande successo che aveva unito i franchi e li aveva resi una forza, importante in Europa. Sua madre, Plectrude, era una donna forte e determinata che era determinata a vedere suo figlio salire al trono. Carlo Manno fu educato alla corte di suo padre e ricevette un'istruzione completa in letteratura, religione e diritto. Era un giovane intelligente e ambizioso, e era destinato a un futuro luminoso. Nel 741 Carlo Martello morì e i suoi due figli, Pipino e Carlo Manno, furono associati al governo del Regno Franco. I fratelli governarono insieme per sei anni, ma la loro relazione non era sempre armoniosa. Carlo Manno era più devoto alla religione che alla politica, e Pipino era più ambizioso e determinato a conquistare nuovi territori. Nel 747 Carlo Manno si ritirò dalla vita pubblica. Non ci sono registrazioni ufficiali che spieghino la sua decisione, ma si ritiene che sia stata motivata da una combinazione di fattori, tra cui la sua devozione religiosa, la sua disarmonia con Pipino e la sua preoccupazione per lo stato morale del Regno Franco. La vita monastica. Dopo il suo ritiro, Carlo Manno si ritirò in un monastero in Baviera. Trascorse il resto della sua vita dedicandosi alla preghiera, alla meditazione e alla riforma della Chiesa Franca. Fu un monaco devoto e un leader religioso influente. Carlo Manno fu anche un mecenate delle arti e delle scienze. Incoraggiò lo studio delle lingue classiche e sostenne la creazione di scuole e monasteri. Fu un sostenitore della diffusione del cristianesimo e lavorò per convertire le tribù pagane dell'Europa orientale, la morte e l'eredità. Carlo Manno morì nel 754 nel monastero di Saint-Denis. Fu sepolto nella chiesa abbaziale, che in seguito fu ribattezzata in suo onore. L'eredità di Carlo Manno è una combinazione di pietà, erudizione e devozione alla fede cristiana. È ricordato come una delle figure più importanti dell'era carolingia.